Il fisco diventa un fattore di sviluppo. È iniziata la rivoluzione fiscale. Il governo ha cominciato a fare ordine nella giungla tributaria. Ecco i primi provvedimenti. Tassa forfè per le nuove imprese. Coloro che non hanno superato il 32esimo anno di età e i disoccupati che avviano nuove imprese fruiranno di un trattamento fiscale forfettizzato di 2 milioni per il primo anno, di 3 milioni per il secondo e di 4 milioni per il terzo anno di attività. Questo unico pagamento sostituirà tutte le imposte che gravano sulle imprese e sui professionisti. Detassazione nuovi investimenti. Agli imprenditori è concessa una detassazione da reddito di impresa pari alla metà dei nuovi investimenti effettuati nei due anni 1994-95. Premio per chi assume. Agli imprenditori e alle aziende è concesso un credito di imposta pari al 25% delle retribuzioni dei nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato. Semplificazione degli adempimenti. Gli adempimenti contabili e amministrativi più gravosi per i contribuenti sono stati completamente eliminati. Questi sono soltanto alcuni dei provvedimenti barati dal governo per rimettere l'Italia sul cammino dello sviluppo.